Coach Matteo Battocchio, prima sconfitta stagionale per Cuneo, una battaglia lunghissima in cui alla fine non avremmo rubato niente anche a riuscirne vittoriosi. Come l'hai vissuto tu da bordo campo? Tanto è un grandissimo punto, perché scontro in retto, in trasferta, l'obiettivo era fare i punti e un punto l'abbiamo però da casa. Chiaro che c'è molto rammarico perché i punti potevano essere 3 più che 2, perché il tight track anche se siamo arrivati prima a 14 non abbiamo avuto delle grandi situazioni per chiudere. C'è stata solo un'occasione su un attacco fuori loro, su cui ne abbiamo fatti invasione però potevano andare a più 2, intorno al 10, 12, però le occasioni le abbiamo avute nel quarto set, non le abbiamo sfruttate, abbiamo avuto in mano due attacchi per chiudere, uno tirato fuori, uno a murata e se tu non le sfrutti le occasioni le sfruttano gli altri. Siamo un po' mancati nei momenti decisivi, è mancato forse un po' di cinismo? Più che nei momenti decisivi, nei momenti del centro del set, il terzo set soprattutto, poi è andata bene lo stesso, anche il quarto set, ma forse a metà set, loro hanno chiamato un time out, ne stanno giocando forte, a rientro il campo, tu va tutte sbagliate, due murate. E lì serve essere un po' più cattivi, perché ripeto, questo è uno sport che non prevede pareggio, o vinci o muori, tra virgolette, quindi o fai punto tu o vincono gli altri. Pochissimo tempo per pensare adesso, arriva tra qualche giorno già il turno di fa settimanale. Sì, l'importante adesso sarà recuperare, recuperare sia energie fisiche, sia quelle nervose, sia sperare che questo viaggettino non ci porti in dote altre influenze. E via. Lasciare andare questa partita come dobbiamo lasciare andare in gara la palla prima o se prima e tornare a fare il nostro gioco, quello che abbiamo fatto per lunghissimi tratti anche stasera. Grazie.